Eccoci, buonasera, tante notizie, ve le diamo nell'ordine quello consueto. Partiremo dai fatti internazionali perché c'è una svolta nel lavoro della Commissione d'inchiesta russa sull'attentato, sull'azione terroristica al Crocus City Hall di Mosca. Avrebbero, ma voi pensate con quanto condizionale lo possiamo dire, avrebbero trovato dei rapporti tra i terroristi dell'Isis, i terroristi islamici che hanno ucciso più di 140 persone e l'Ucraina attraverso, non si sa, se finanziamenti o aiuti o che cosa. Ovviamente viene presa con un estremo scetticismo questa svolta annunciata dalla Commissione d'inchiesta e peraltro pochi secondi fa si è saputo di un messaggio audio di un portavoce accreditato dell'Isis che rivendica quello e l'altra azione, quella altrettanto clamorosa, terribile in Iran, sulla tomba del generale Suleimani pochi mesi fa. E tutta l'azione svolta dall'Isis Khorasan, come si chiama la branca dell'esercito dello Stato Islamico che ha colpito a Mosca. Questo, come a dire, non ci ha aiutato nessuno, ma è chiaro come la Russia oltre a tutto abbia interesse a gettare la responsabilità addosso a Kiev. Lo si vede per un altro aspetto. Putin ha detto, attenzione, che gli F-16 della Nato sono da considerare i nostri nemici a tutti gli effetti in questa guerra, sia che decollino dalle piste ucraine, sia dagli altri paesi. Come dire, state attenti voi della Nato a aiutare Kiev. Ma vedremo anche le novità sulla guerra di Gaza con la Corte dell'Aia che dice a Israele dovete, è un obbligo, far passare tutti gli aiuti umanitari verso la popolazione civile di Gaza. E poi, come si sa, Budapest, seconda udienza del processo Ilaria Salis, ancora la nostra connazionale è portata in catene ai polsi e ai piedi nell'aula del tribunale dove le è stato negato qualsiasi diversivo rispetto alla permanenza in carcere, no alla scarcerazione, no ai domiciliari, né in Italia né nella stessa capitale ungherese. Evidentemente una situazione molto pesante, critiche di tutte le forze politiche, di fatto, ovviamente soprattutto dell'opposizione a questo trattamento da parte del sistema carcerario e giudiziario ungherese. Però vedremo che non siamo forse più titolati a dare, anche se è sacrosanto in questo caso, critiche, a fare critiche nei confronti di Budapest perché oggi c'è stato il primo risarcimento nei confronti di quello zuncheddu che è stato 33 anni innocente in carcere. Vedremo che cosa è successo e vedremo come gli vengono dati di risarcimento 8 euro per ogni giorno non di carcerazione, ma di carcerazione in condizioni inumane, in cella sovraaffollate e senza servizi igienici, 8 euro. Andiamo a vedere però anche che c'è dell'altro perché c'è la campagna elettorale che incombe ma per molte forze politiche in realtà c'è ancora tutto da decidere, si parla tanto delle liste del Partito Democratico, Schlein sì, Schlein no e alcune presenze di figure che si sono impegnate sul tema del pacifismo per la guerra di Ucraina che sarebbero in lista la figlia di Gino Strada o anche l'ex direttore dell'Avvenire Tarquinio, ma c'è una parte del PD che diceva se noi siamo dalla parte dell'Ucraina, poi perché aspettiamo chi la pensa diversamente e agisce diversamente da noi. Ma vedremo anche che c'è la situazione di Salvini che sta lottando su tutti i fronti, anche troppi, qualcuno dirà come si vede, ma per la Lega è una partita di sopravvivenza politica e poi c'è un episodio oscuro e grave che è avvenuto a Carpi, profanazione di una profanazione, ha detto qualcuno celiando, ma fino a un certo punto. Vedremo di che si tratta, questo è altro Un Minuto ai Titoli.